Tutta una serie di insulti rivolte alla mia persona riguardo ai miei problemi evidenti, acneici, che io non nascondo, non ho mai nascosto. Sono andata sull'isola anche per mostrare chi sono veramente anche al di là del trucco. Quindi quando hanno insultato Cristina, quando lei è stata morsa dai moschitos, mi sono sentita, come dire, in dovere anche di prendere le sue parti, senza che lei ovviamente me l'avesse chiesto, perché credo che insultare una persona per i suoi difetti fisici sia estremamente umiliante per chi li fa. Per cui credo che la vulnerabilità, il difetto fisico altrui debba essere sempre accettato e mai condannato, proprio perché ognuno deve considerare i propri e quindi essere accettato anche per quelli che ognuno ha. Nessuna tentazione non dura spermelissa, felicemente fidanzata e quindi insensibile al fascino dei naufraghi, anche se la scrittrice ha espresso belle parole, soprattutto per Andrea Montovoli. È irresistibile nessuno, a parte che io sono una ragazza felicemente innamorata e fidanzata, quindi resisto a tutto molto volentieri, però posso dire che anche per affetto... Grazie a tutti.